La storia delle ferrovie italiane è chiaramente legata a doppio nodo con gli eventi sociali e politici dell'Italia Unita e degli stati preunitari. I forti legami che si costruiscono tra paesi e città situati sulle direttrici e sui tronchi delle vie ferrate in parte ricalcano l'antica organizzazione stradale dell'impero romano, ma altrettanto spesso sono il frutto di una visione degli spazi nata con la riorganizzazione del paese all'epoca della seconda rivoluzione industriale. Anche per questo motivo, per congiungere Napoli a Roma, furono progettati due percorsi distinti. Uno che si snoda verso il mare attraversando Mondragone, Formia e Terracina, l'altro che abbraccia la Campania Felix, da Acerra a Mignano-Montelungo. Chi parte dalla stazione di Napoli può iniziare quindi il viaggio portando con sé il prezioso Oro Bianco, che ha reso celebre i territori di Caserta e Salerno. In vendita presso il mozzarella bistrò di Fattorie Garofalo, potrete anche assaggiarlo in ottimi panini con pomodori freschi. Di certo però non si può lasciare la città senza avere gustato il caffè, zuccherato direttamente in tazza dal macchinista all'interno del celebre bar Mexico. Per chi volesse invece azzardare una novità, Cuori di Sfogliatella propone, oltre alle classiche riccia e frolla, una serie di gustose varianti. Non ultima, quella fritta.